le parole del vangelo di questa prima domenica di avvento sono quanto mai attuali nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere una pandemia e tantomeno una guerra che si è sviluppata sotto i nostri occhi questa prima domenica ci invita ad essere vigilanti perché il male è sempre pronto ad attaccare come leone ruggente vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il signore verrà ci dice Gesù possiamo sentirci come giorni di noi non si accorsero di nulla finché non venne il diluvio e le travolse eppure non dobbiamo e non possiamo perdere la speranza dobbiamo confidare nell'intervento del signore perché è lui la nostra speranza e la nostra vita in chi rimenti la tua fiducia a chi ti rivolgi nei momenti difficili cosa dovresti cambiare nella tua vita per essere meno pessimista